Ciao amici, benvenuti in un altro video ricetta di Vale Chef, io sono Vale Chef e qua con me c'è Cleopatra, ciao ragazzi, anche se volevo che si vestisse la scimmia, perché la scimmia ne volevo. Vabbè abbiamo Cleopatra e ballerina anni venti Charleston, cosa andranno a fare questi due personaggi? Andremo a fare dei fantastici hamburger, hamburger detto proprio all'inglese, dei burger bams fatti da noi buonissimi e con tutto anche la cottura, la cottura della carne che ci sarà un altro personaggio fantastico nel nostro magico mondo. Quindi musica che si comincia, ma prima sigla! Ed eccoci qua, ora si comincia, si fanno questi fantastici burger bams. Ecco qua tutti gli ingredienti per fare i burger bams. Iniziamo! E qua l'albume si tiene e si mette solo rosso. E qua l'albume si tiene e si mette solo rosso. Zucchero. Zucchero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno mi ha chiamato? Ma chi è questo? Harry? Harry? Che ci fai qua? Non lo so. Mi sono sentito evocato. Allora... Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Non è giudato. Si vede, si vede. Forse ne ho uno. Aspetta, proviamo. Scusate l'abitudine. Fammi minacciare. È uno proprio giusto. Ce l'ho. Lievitus! Grazie, Harry. Non c'è nessun problema. Quando volete sapete dove chiamarlo. Spari! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, adesso si leva questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.